Per l'intervista del Prato Fernando questa sera ci troviamo con il grande Fausto Leari. Oggi esce il tuo ultimo album di duetti con grandi personaggi della musica. Puoi farci un po' di nomi? Un po' di nomi, Mina, De Gregori, Baglioni, Britti, Tozzi, Climentino, Toni Adri, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Alec Quinti. Allora, sappiamo anche che crediamo quasi sicuramente che andrà e saremo prossimo. No, sicuramente non sono anch'io, non so ancora niente. Però si parla molto di questa cosa. Se ne parlano, già la cosa non mi piace perché è inutile parlarne prima. Però, speriamo. Comunque noi ti ammettiamo. Da bene. Un grande piacere. Grazie. Al prossimo saremo Fausto Leari, un grande mito della canzone italiana. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Hai già pieno sui dire tutti. Grazie Fausto. Nessuno di qua. Ciao, ciao. Ciao! Viva! 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 Però sconfisse i dolori che ne vanno, perché saranno anche più grandi negli amori che ne vanno. E lascerò ai tuoi occhi tutta la vita da guardare, è la tua vita e non ti torna mai. E lascerò ai tuoi occhi tutta la vita da guardare, è la tua vita da guardare, è la tua vita e non ti torna mai. E lascerò ai tuoi occhi tutta la vita da guardare, è la tua vita da guardare, è la tua vita da guardare, è la tua vita da guardare. E lascerò ai tuoi occhi tutta la guardare, è la tua vita da 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 guardare, Oh, oh! Non sai, hai fatto male, lasciare con i suoi, ma non importa.